Sambato scorso, durante il mercato rionale di San Michele, un'ambulanza è rimasta bloccata da auto e bancarelle e non ha potuto raggiungere il posto della segnalazione nel cuore del quartiere, obbligando gli operatori sanitari a scendere dal mezzo e a proseguire a piedi. La notizia è stata diffusa questa mattina dal quotidiano La Sicilia. La segnalazione al 118 era partita dall'ufficio postale di piazza Gerardo Noceto, dove un'impiegata si è sentita male. L'ambulanza ha raggiunto il quartiere attraverso la via Mattatoio e poi ha proseguito in corso Fazzello. In quest'ultimo punto però è rimasta bloccata. Auto, furgoncine e bancarelle ostruivano infatti la strada e l'ambulanza si è dovuta fermare ad una cinquantina di metri dall'ufficio postale. Gli operatori sanitari del 118 si sono recati a piedi all'ufficio di piazza Noceto e lì hanno potuto prestare soccorso alla donna, per la quale per fortuna non è stato necessario il trasferimento all'ospedale di Sciacca. Un episodio che non desta stupore. Era prevedibile che prima o poi la calca di gente e di auto che si riversa nel quartiere storico prima o poi avrebbe ostruito il passaggio di un mezzo di soccorso. Un maggiore controllo riguardo la viabilità è più che auspicabile.